Siamo in Agro di Melissano, ai confini con Racale e Alliste. Qui gli ulivi sono ancora sani, fatte salve alcune branche con avvisaglie di complesso da dissecamento tipico della xylella fastidiosa. Questa potrebbe essere, è il condizionale d'obbligo, una delle zone ricadenti nel cosiddetto cordone sanitario che la Commissione europea intende istituire a cavallo tra la zona tampone e la zona infetta per deliminarla ulteriormente, eradicando decine di alberi. Quanti di preciso non è dato di sapere, considerato che la mappatura non è ancora stata effettuata. Ma si tratterebbe di alberi come questi, sui quali, cioè la malattia, rischia di svilupparsi diventando fonte di propagazione per gli altri. Preoccupati i produttori, come ci spiega il presidente della cooperativa Acri di Racale, che raccoglie 600 olivicoltori, ogni albero abbattuto è un mancato reddito. È un mancato guadagno, un mancato ricavo da parte di chi svolge in maniera professionale questa attività. I nostri produttori sono veramente in trebilazione e vengono costantemente a chiedere informazioni. I dettagli dell'eradicazione si inizieranno a chiarire in un tavolo che si svolgerà la prossima settimana, non si sa ancora sia a Leccio o a Bari, mentre nelle prossime ore la questione sarà affrontata presso l'alamagna della Facoltà di Agraria del Capologo Pugliese in un seminario del professor Alexander Purcello, massimo esperto mondiale di Xilella. Intanto gli olivicoltori, che hanno dovuto sostenere una manutenzione straordinaria con notevoli costi aggiuntivi a proprio carico, chiedono di essere ristorati.